I bilanci sono sempre difficili da fare perché i bilanci che si fa a chi esce sono quelli che sono riguardanti la propria missione e quello che ha un trascorso sul quale ci hai messo tutto te stesso e che però aspetta gli altri giudicare. Il bilancio effettivo è quello che ha presentato questa mattina il direttore, sono numeri, sono persone che collaborano, che lavorano in associazione e io penso che quelli siano sotto gli occhi di tutti e siano indiscutibili e inconfutabili. Personalmente penso che siano stati otto anni fantastici nei quali ho avuto la possibilità di arricchirmi personalmente e spero umilmente anche di aver dato il mio contributo al comparto agricolo locale. Allora io inizio come agricoltore quando ho finito l'università nel 2008, mi sono lavorato a dicembre e a gennaio purtroppo sono venuti a mancare i genitori, quindi ho dovuto subentrare all'attività agricola di famiglia. Con mio fratello siamo partiti da tre tre di vigneto e una stalla di vacche da latte. La stalla è stata a breve rimpiazzata da un'attività apistica, ad oggi siamo a 150 arnie circa e i tre di vigneto sono diventati circa una decina, soprattutto per fortuna insomma a Prosecco DOC. Come attività che poi ho avuto modo di sviluppare in questi anni con essere attività agricola ho avuto modo di far parte del Consorzio di Difesa, di cui faccio parte tuttora. Negli ultimi sei anni sono stato consigliere là. Dal 2021 sono consigliere in Consorzio DOC e dal 2012 ho fatto il consigliere in cantina a Colli del Soligo e da quattro anni sono anche vicepresidente. Linea programmatica, un bel impegno. Sicuramente l'aspetto della sostenibilità è una cosa che andrà toccata su tutti i fronti, da quella ambientale a quella sociale a quella economica, perché l'ambiente va mantenuto in modo impeccabile o quantomeno nel modo migliore possibile. La sostenibilità sociale e noi siamo agricoltori ci rendiamo conto che magari la nostra attività può a volte andare a condizionare anche quella della società, quindi insomma è giusto che ci sia un rispetto sia da parte degli agricoltori verso i cittadini ma anche dei cittadini appersi gli agricoltori insomma, perché noi insomma stiamo producendo cibo e lo stiamo facendo con tutte le regole che ci arrivano dal Ministero o comunque dagli organi competenti. Inoltre poi la sostenibilità economica è una cosa senza la quale le aziende muoiono, quindi o c'è un reddito che entra e ci permette di sostenere le nostre produzioni o altrimenti abbandoniamo le nostre aziende e di conseguenza anche il territorio, con tutte poi le conseguenze che si vedono tutti i giorni causate appunto dall'abbandono soprattutto anche di certe aree che hanno bisogno di una costante manutenzione. L'importanza dei giovani è fondamentale, noi abbiamo un'associazione giovani molto attiva che è presente in tutte le province e investiamo sulla competenza che i giovani portano all'interno dell'agricoltura, prima di tutto e anche dalla Confederazione. Ho detto con una battuta che noi, quelli della mia generazione sono nati analogici e devono diventare digitali, invece i giovani sono nati digitali e fanno prima ad appropriarsi degli strumenti. Il futuro dell'agricoltura ovviamente è anche legato ai giovani, cioè più giovani entreranno in agricoltura e più l'agricoltura farà progresso. L'agricoltura ha delle difficoltà molto serie, però quella italiana è un'agricoltura che ha al suo interno un grande patrimonio di biodiversità e di qualità e quindi io sono confidente sul fatto che i prodotti dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano troveranno ancora successo. Certo, il ricambio generazionale anche in questo è fondamentale. Oggi finalmente siamo arrivati all'ultima gara di questo piccolo campionato che era il rinnovo degli organismi e degli organi confederali. Devo dire che è un bilancio ottimo, abbiamo visto una dinamicità di idee, di figure, giovani, tanti giovani, ci eravamo dati ancora tempo dietro l'obiettivo di attirare sempre di più i giovani perché il giovane è più flessibile, perché ha una visione diversa, perché è digitalizzato. Noi arriviamo con una battuta dal mondo analogico, probabilmente anche qualcuno di noi utilizzava la macchina da scrivere a caratteri e oggi si trova con le sfide che da un cellulare comandi un trattore piuttosto che un drone. E' chiaro che quindi la sfida è questa, la sfida è avere un rinnovo, avere delle competenze ma finalizzate a cosa? Finalizzate a rivalutare, ridare dignità al ruolo dell'agricoltore.